Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su The Division Oggi proveremo a fare la missione appartamento di Hammerst O come cazzo si chiama Direi subito di entrare Ho già sentito degli incendiari prima di entrare Quindi sarà divertente Perfetto Vai via civile Scappa ti salvo Questo ho anche il cecchino di dio praticamente One shot easy proprio Sì quando però non misce ovviamente Oddio Scudo Andato perfetto E levatevi dalle balle tutti Odiosi Oddio Vai così Già eliminati vabbè è stato facile Di sicuro diventerà più difficile Metti in sicurezza l'ingresso dell'edificio Ok Checkpoint Perfetto Oddio Via uno Madonna sono Oh bella Esplodi L'amico Uh è andato in fuoco Perfetto Un altro là Aiuto Cecchini Che palle sto cecchino Deve ricaricare cinque colpi È lunga la ricarica Però L'effetto che fa Quando colpisci qualcuno È molto buono Headshot Aia Vado a fuoco No 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 Tutti allontani da me Con quel fottuto lanciafiamme Odioso pezzo di merda Oddio un giallo L'ho chiamato Cristo santo Devo trovare per forza qualcosa Per le fiamme Sono veramente forti Cioè Non potete capire Sono fortissimi Lanciafiammi Incendiari Sono Sono forse i nemici peggiori Anche se sono facili da sconfiggere Perché si possono Debellare Sparandogli Alle bombe Le bombolette Diciamo Il problema è che Comunque c'è Sono veramente fastidiosi Appena si avvicinano Eccolo lì Esplodi Stronzo Kaboom Oh Questo è quello che voglio sentire Kaboom Proprio Ok Perfetto Oddio C'è gente intrappolata Oh mio dio Li stanno bruciando vivi Che pezzi di merda Che sono Motivi in più Per distruggere Gli incendiari Proprio Obbligatori Stronzi Pezzi di merda Credo che siano I più pazzi All'interno della No Li sto uccidendo Andate Non è bravo È giusto così Ovvio Ok Sto aprendo la via Ovviamente Sono tipo Gesù Cioè È una roba assurda Ok Oddio Che cazzo è stato Mi sa che ho visto qualcosa qui Infatti La cassa Per favore qualcosa di buono Schifo Capita spesso Mi capita veramente spesso Di trovare robaccia Non so perché sto andando di qua Vabbè Ci sono andato Amen Torniamo indietro e continuiamo Non è malato Non è malato Non è malato No Gli ha dato fuoco Cristo Non l'ho salvato Cristo santo Volevo salvarti Scusami Capita Madonna Che mira del cazzo Aiuto Bella Ho sentito bene C'è la torretta No Oddio è viola Vabbè è morto Ok bisogna eliminare la torretta Senza creparci tanto Vai così Oddio Un altro giallo Alzati Vabbè è più facile da uccidere questo Non è un gigante Morto Andato Ok Come si sale Ah quello l'ho capito Ah di qua Ok Le prove del loro reato Cristo santo Poverino Ho capito che ha creato L'apocalisse Però Santo dio Poverino Dai Dai Che cacchio Metto l'altro Ma di certo Non per trovare documenti O hard disk E se per caso Trovi Amers Lì dentro Eh Ovvio Così posso fargli qualche Sono sicuro che Se lo troviamo È morto Non lo siamo mai Fammi almeno sognare Fammi almeno sognare Cristo santo Questo è proprio Portare sfiga Dai che lo troveremo Morto Ma lo troveremo Ok Oddio Ok L'appartamento di un pazzo Praticamente Estrae le prove Ok No 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 Un elicottero Wow Non gioco col fuoco Gli uccido Se si avvicino Non li uccido Non ci gioco Ok Munizioni Non capisco Se mi dice di andare Dalle scale O di salire di qua Boh Vabbè Se le andiamo Uhlala Salve Salve Vi odio Madonna Se sono odiosi Peccato Non sono più lì Dove hai lanciato la granata Mi dispiace Oh cazzo scudo Bella C'è un ultimo direi Di farlo fuori così In stile Pam Morto Ok Più che altro Forse qua sopra c'è qualcosa No Non Non sembra Ok Andiamo avanti allora Credo che si salga di qua Si Oddio Oh mio dio Ok Poteri magici Degli incendiari Si si Ho capito Ho capito Ho capito Tranquilla Ha rotto il cazzo Di dare ordine Veramente Oddio Non voglio andare nel fuoco Però Non è che Non è sicuro Cioè più che non è sicuro È Non voglio crepare Ora Vediamo Proviamo di qua Uh la la Madonna Madonna Per favore Oh Ok via uno No Non scendere Bastardo Perché dovete essere più stronzi Da ammazzare così Bella Bellissima granata Sei Un genio Quasi morto Vabbè facciamo così Pam Morto le gambe Tranciate via Ok Va bene Eh vorrei vedere Oh mio dio Già qui Che No Per favore Non mi prendete per il culo Eh l'ho lanciata un po' di merda Ok Ok c'è un altro E poi vedo qualcosa Là sopra Che mi cecchina E quello non è il massimo Quindi Eliminiamolo Madonna Dove Madonna Santa Buonissimo Sto cecchino Ragazzi Veramente Buono Peccato Per i tempi di ricarica Se non fosse per quelli Se non fosse per quelli Devo per forza E poi non c'è uno slot caricatore Quello è il peggio Sei pronto a recuperare il pacco Bene sono felice Perché questi mi vogliono bruciar vivo Cristo santo Non vorrei rompere i coglioni Ma non è Oh mio dio Un giallo Rogan Ok rogan Sono qua Sono pronto per te Però prima voglio uccidere L'incendiario lì Perché So che mi potrebbe dar problemi E dovrei uccidere il cecchino Ok è andato Perfetto Ok Rimane solo il boss Alzati Alzati Ti ho detto di alzarti Sono io che comando qui Non te Oddio da dietro Ma che cazzo ci fai da dietro Odio L'odio totale Presta Oh Oh L'ho sentito L'ho sentito il colpo Ho fatto male Oh perfetto Andato Non capisco da dove mi stanno compendo Vabbè Robaccia Che palle Ok Andiamocene Via 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 Ah Ok Che schifo anche di pistola Passa e chiudo Passa e chiudo anch'io Talenti armi Ok Grazie Talenti armi Le armi di qualità specializzata E superiori possendono talenti Talenti armi conferiscono caratteristiche Utilizza l'equipaggiamento giusto per soddisfare i requisiti di armi da fuoco, vigore o elettronica Ok Vabbè Ricevuto A posto Abbiamo anche fatto il livello 16 Perfetto così Direi che per questo video è tutto Come sempre Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate e iscrivetevi E al prossimo video Ciao a tutti ragazzi